Salve a tutti ragazzi ben ritrovati nel canale di Gimmy Adison qui su Fortnite con la modalità Ormasticcio V2 e siamo qui con altri tipi ovvero con Karsom, Gabyu e NoScoop che prenderà ovviamente la gente di Blind e diciamo che la prima partita hanno quittato tutti e io sono morto malamente vabbè allora siamo con Pat, Gfizz e Boho, Jory e vabbè i nomi assurdi e niente speriamo di non andare a pinnacoli come hanno voluto fare loro i fenomeni prima e andiamo ad Akris speriamo accettate Akris accettate ok Boho, Boho, Jory, perfetto tutti hanno accettato Akris e andremo ad Akris e niente andiamo alla nostra stallozza un lì un lama, ciao l'amoso il lama il lama il lama il lama vabbè noi andiamo alla stall e poi andremo a prendere il lama non c'è nessuno come ti sei rimasto male ma almeno qualcuno volevo volevo almeno qualcuno vabbè oh niente per ora a parte che si vede il coso leggendario oh sto scherzando ok veramente oh cassa almeno una cosa leggendaria ti prego scar cerchino proprio la roba perfetta ma Boho è andato all'ombrello mi prendo il lama il lama mio il lama mio il lama mio il lama è mio perfetto il nostro lama ciao lama boom medici tra oh le trappole che devo fare la kill per la missione se ci riusciamo guarda roba leggendaria c'è neanche le granate impulsi no cosa mi faccio danno grazie detriti lì inutili che però mi hanno salvato la vita niente di che niente è arrivato anche lì Boho un'altra trappa a tre trappole me ne date e grazie anche troppe quattro con questa non è lì non è l'ult questa è buono allora c'è stopening un scar e il cespuglio non ci tengo a prenderlo è perfetto perfetto qua un altro cesto per il ragazzi una novità assurda sono usciti due nuovi oggetti uno è raro e praticamente è tipo uno zaino che ti fa vedere la prossima safe dove sarà e l'altro ovviamente il jetpack che se fate il doppio salto vi consumerà il fuoco che avete nel jetpack e insomma vi farà volare altra cassa ho ancora scar no le apro tutte in non taglio nessuna apertura della cassa perché se troviamo il jetpack cosa possibile perché siamo in scarifortatile no grazie ti voglio bene guarda intanto oh tieni bravo bravo ha capito tutto mi sono accorto ora che jfizz è lontanissimo è dall'altra parte della mappa niente gli oro non vogliono venire vogliono fare i camper e io no quindi sto cercando di fare il fight speriamo di trovare il nuovo pompa e il jetpack perché se no sarebbe veramente una cosa fantasticissima d'ora in poi nuovo gioco spari in bocca al pomodoro fatto dritto nei denti è arrivato ok gente davanti a noi oh no dai 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 non mi puoi fare però un a a a niente si 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 ce la possiamo fare ok ho oh ho oh oddio è il mio compagno grande bo intanto che ne ha tramortito uno la cosa sta facendo eh guardate la jump sta qua però stufato è la terza volta che l'hai no seconda volta che l'hai nooo caraffona eh ho visto ci sta pushando ci sta pushando il puzzone ok è sotto di noi dovrebbe essere qua il campo minato e dov'è la porta dov'è la porta arg sta qua non allora ho stoppato la registrazione per la cosa come è fatto aveva il pompa io avevo lo scar e non è morta che è io avevo il pompa avevo lo scar e non è morta ora ci conviene andare in safe con le granate che impulsi guardate come nel non lo so usare bene in realtà perfetto stavate questa si che l'ho usata bene la ci mettiamo oh ma io ho la jump ma io ho la jump comunque lì la t-rex stessa lì la la signora t-rex lì non è che sia stata molto sveglia con me vi yahoo lo so è uno spreco è veramente uno spreco allora aspetta volevo provare a fare visto che la porta è safe più o meno sarà là voglio provare a fare allora allora pratico no 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 ah l'ho visto no ah eccolo no 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 ah prohibited ci stanno assalando i 400.000 peraltro ok no mi ha atterrato l'altro mi ha atterrato l'altro vogliate sono caduto dalla scala no 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 curami no no ragazzi no vabbè questo qua non è proprio intelligente ma è un nabbo allora ragazzi io spero che il video vi sia piaciuto verrà così un video un po' di modalità appunto oro massiccio allora niente mettete un like se il video vi è piaciuto ciao